È nato nel 1974, cresciuto ad Albavilla, laureato a 23 anni in giurisprudenza alla Statale di Milano, uno studio di avvocato, ma la sua passione è sempre stata ed è la politica. A soli 22 anni si candida ad Albavilla e per 10 anni è consigliere comunale. Nel 2007 in provincia diventa assessore alle politiche attive del lavoro, alla formazione professionale e alle attività economiche e alla università. Nel 2009 diventa sindaco di Albavilla, nel 2013 diventa consigliere regionale e nel 2015 sottosegretario alla Presidenza con Maroni governatore e nel 2018 è Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. Avrete già intuito che stiamo parlando di Alessandro Fermi. Buongiorno Presidente. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti. Presidente Fermi, abbiamo detto che la sua passione è sempre stata la politica. Dove è nata e come è nata questa passione? Per caso. Io ho fatto questo giro di incontri con gli studenti delle scuole superiori, ho raccontato come ho iniziato a fare amministrazione, per stimolarli a provare, perché io mi sono candidato ad Albavilla semplicemente perché mio papà era medico di base del paese e qualcuno giustamente aveva pensato se candidiamo il figlio del dottore, il dottore porta i voti al figlio e la nostra lista prende più voti. E allora quella sera mio papà mi chiese mai voglia di candidarti in comune. Io avevo tutt'altro per la testa, insomma stavo studiando, mi piaceva organizzare le feste, facevo il dj. Quindi come l'amministrazione e la politica era una cosa molto lontana da me. Però ho avuto la fortuna e anche come dire un po' l'intuizione di dire proviamo, è una cosa nuova, chissà, magari mi piace. Ecco, a distanza di un po' di anni diciamo che questa scelta è diventata poi una passione, è diventata un po' un'attività un'attività anche lavorativa ed è frutto del caso, è frutto di una casualità. Quando ho incontrato questi ragazzi, gli ho detto proprio queste esperienze, gli ho detto guardate che a volte provare, fare delle esperienze in ambiti che magari pensi che siano molto lontani da te, possono diventare invece qualcosa che ti appassiona. Per cui se avete qualcuno che vi chiede di provare, di fare un tentativo, di iscrivervi ad un'associazione, di candidarvi nel vostro comune, di partecipare ad un progetto, anche se è lontano dalla vostra idea, dai vostri interessi in quel momento, provateci perché la mia esperienza di vita, la mia esperienza amministrativa e politica è nata per caso. Passione ma anche entusiasmo. Nel fare politica lei dimostra tanto entusiasmo. Anche per lei è valido quel detto di quel Papa di origine lombarda, Pio XI, che diceva che la politica è la massima espressione della carità? Dipende come l'interpreta una persona, nel senso che io mi sono sempre definito molto più amministratore che non politico e la soddisfazione più grande nei vari ruoli che ho ricoperto in questi anni da consiglio comunale di minoranze, primi 10, sindaco, poi in provincia, adesso in regione, è quello di trovare soddisfazione nella soddisfazione delle persone, cioè quando una persona si rivolge a te, quando un'associazione si rivolge a te, quando un sindaco si rivolge a te e tu riesci a risolvergli i problemi, riesci a dare una mano, che la mano che dai alla singola persona, così come l'amministrazione, così come ad un'associazione, è qualcosa che riempie il cuore. E questa è la cosa più bella della politica, quando una persona ti dice grazie, se non ci fossi stato tu, io questo problema non l'avrei risolto. Qui siamo nella casa di Albavilla, una casa che domina anche un po' il paese di Albavilla. Lei ha detto e ha anche scritto che si sente fortunato perché è cresciuto in una famiglia unita e serena. Quanto vale per lei la famiglia? Che importanza ha? Io sono stato molto fortunato, sono stato molto fortunato perché ho potuto in qualche modo rientrare a casa e trovare sempre un calore. Adesso siamo sotto Natale, insomma, io mi ricordo i Natali da bambino, mi ricordo l'infanzia, mi ricordo anche momenti di difficoltà dell'adolescenza in cui hai mille cose per la testa, però sapere di poter contare su qualcuno, sapere di non essere solo, trovare un ambiente sereno a casa è fondamentale. Questa è una delle grandi fortune che possono capitare, che poi vuol dire anche tanto impegno, cioè vuol dire anche da genitore provare a trasmettere quelle sensazioni positive e rassicuranti nei confronti dei propri figli. E la sicurezza che ti dà le persone più vicine, le persone attaccare, è una sicurezza che non è scontata e quindi io ringrazierò sempre i miei genitori per questo, perché mi hanno consentito di fare delle scelte in libertà, ma di sapere sempre che se avessi avuto problemi loro ci sarebbero stati. E ora la sua famiglia? E ora mio figlio che ha otto anni, spero di essere in grado in uno dei lavori più difficili che ci sono nella vita di una persona, cioè quello di crescere una prole, è proprio quello di cercare di trasmettergli questo, di fargli rivivere le cose belle che io ho vissuto, di fargli capire che la vita la sceglie lui, ma che c'è sempre qualcuno, in questo caso io e mia moglie, che nel caso in cui ci fosse qualche problema ci siamo. Poi rispetto a come eravamo noi ragazzi e come sono oggi ragazzi è cambiato veramente tanto, è cambiato veramente tanto. La capacità di crescere loro è molto più veloce la nostra. Io a otto anni non ero né sveglio, né connesso, né così pieno di informazioni come lo è lui. Positivo da un lato sì, ma non è tutto e solo positivo questo. Ci sono anche degli elementi su cui bisogna prestare attenzione, insomma, perché questa crescita troppo veloce dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, tutta dettata dalla connessione che hanno attraverso la tv, attraverso i telefonini, attraverso gli smartphone, insomma, tutto questo è certamente qualcosa su cui bisogna ragionare con molta attenzione e con molta calma. Perché dico questo? Perché alla fine il bambino, il ragazzo che cresce, secondo me deve avere sempre ben saldi i piedi sapendo che la famiglia, gli amici, le persone più vicine sono gli unici che possono fargli capire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. E senza fare i salti. E senza fare i salti. Pensare che ci siano persone che conoscono attraverso questi social network che possano diventare, come dire, non tanto degli influencer, ma come dire, dei maestri di vita o che li consigliano, ecco, questo è molto pericoloso. Questo è molto pericoloso perché a volte si può incappare ovviamente. I primi influencer sono i genitori? I primi influencer sono i genitori. Poi si ha la fortuna di avere i genitori che provano, ovviamente, sbagliando anche loro a dare consigli che si ritene giusti, ma la vera difficoltà oggi è far capire ai ragazzi questo passaggio. Cioè quando tu hai troppi interlocutori, tanti interlocutori, ecco, far capire questa grande differenza. L'interlocutore serio è un po' come la notizia, insomma, le fake news, la notizia vera e la notizia falsa. Oggi sono bombardati di notizie, di persone che li parlano, ecco, cerca di far capire, ascoltali, prova a farci una riflessione, ma quando hai dei dubbi, quando hai delle domande, quando ti poni qualche cosa, ecco, individua due o tre persone a cui fa riferimento per sciogliere questi dubbi. Ma quando entra in casa la politica rimane fuori o entra anche lei? Fuori, fuori, fuori. Io non sono un gran chiacchierone e questo è uno, come dire, delle sofferenze più grosse che ho dato ai miei genitori, perché fin da ragazzo quando tornavo a casa mi chiedevano come è andata la giornata? Bene. E come è andata a scuola? Bene. E finiva lì. E oggi è così. Io quando entro qui, quando entro in casa, tutto il mondo sta fuori, perché per me è un motivo anche di difesa da un lato mio, ma soprattutto siccome la politica, l'amministrazione, come tutti i lavori, insomma, hanno con sé delle tensioni, riuscire ad avere la forza di tenere fuori queste tensioni, questi problemi, queste preoccupazioni dall'ambito familiare, penso che sia qualcosa di corretto. Poi magari mia moglie si lamenta che racconto poco e ce ne faremo una ragione. L'inverno demografico, le statistiche le conosciamo, le indagini che fanno le varie associazioni le conosciamo. Un dato di fatto che l'Italia è sofferente dal lato demografico ed è sofferente anche per quanto riguarda la famiglia. Problemi familiari sono sempre in aumento e anche tante famiglie sono in crisi. Cosa fare? La Regione per superare questo grosso problema, che del resto non è solo della Lombardia, ma è dell'Italia e anche di altri Stati europei. Cosa fare e che cosa ha fatto la Regione Lombardia per superare questo handicap? Questo è un problema che ovviamente ha radici profonde, che sono in parte culturali, in parte dettate dal cambiamento dello stile di vita, dalla frenesia con cui si vive, dalla difficoltà di pensare ad un modello di società che riesca a collimare l'importanza di un lavoro con gli impegni familiari. Oggi gli unici strumenti e gli unici elementi che possono essere presi in considerazione come modelli sono un po' quelli dei paesi nordici. Rispetto al panorama europeo che è molto simile, si differenzia un pochino i paesi nordici che sono riusciti negli anni a costruire dei modelli di welfare, dei modelli di aiuto alle famiglie per liberarli dalla paura del futuro nel momento in cui si costruisce una famiglia, si hanno dei figli. Per farlo servono ovviamente alcune risorse, servono alcuni strumenti, ma serve soprattutto di mettere in condizioni le famiglie di vivere la propria procreazione, la propria voglia di fare figli senza dovere preoccuparsi poi del futuro. Oggi la preoccupazione del futuro è qualcosa che più di tutti limita questo. Il nord Europa è l'unica parte dell'Europa che è riuscita effettivamente a fare un salto su cui dobbiamo guardare con grande attenzione. Noi come Regione Lombardia ovviamente mettiamo a disposizione le risorse per quanto di nostra competenza sul tema degli asili, sul tema ovviamente della compartecipazione, sul tema ovviamente di cercare di conciliare il più possibile il lavoro con la famiglia, sia sul genere maschile sia sul genere famiglia. Devo dire che una delle poche cose positive che ha insegnato il coronavirus è che c'è stata una grande possibilità di capire come alcuni lavori possano essere svolti anche da casa attraverso i meccanismi di smart working, che è comunque uno strumento che può aiutare la donna, la donna che ha voglia di fare figli o l'uomo che ha voglia di occuparsi dei figli in un'ottica di parità di genere e questo penso che possa essere un percorso molto lungo. A monte di tutto ciò dobbiamo tornare ad avere anche la voglia di procreare, cioè la voglia di fare figli, la voglia di costruire delle famiglie che possano essere in nucleo, avere anche un po' questo coraggio. La popolazione italiana sta invecchiando e sta diminuendo e poi abbiamo delle proiezioni da qui al 2050 in cui ci sarà invece un aumento importantissimo di popolazione mondiale. La conseguenza qual è? Che ovviamente si parla sono basi comunicanti, quindi o noi recuperiamo, invertiamo questo indice di calo demografico o inevitabilmente ci saranno altre popolazioni, soprattutto sulla parte dell'Africa che stanno invece crescendo da un punto di vista numerico in maniera molto importante e che inevitabilmente arriveranno. A questo punto ci sarà anche la necessità di averle rispetto ad alcune attività, ad alcune professioni, ad alcuni ambiti. L'ambizione è che si provi veramente a fare vere politiche di famiglia, per consentire di non pensare ad un figlio come una preoccupazione, ma solo come una gioia e come una crescita. Una delle sue caratteristiche è il legame che lei riesce a mantenere con il territorio, come fa. Le ore della giornata per lei non sono 24, ma magari sono un po' di più? No, sono sempre 24. Diciamo che mantenere le gare in quel territorio è qualcosa di estremamente bello, è qualcosa per cui io non ho mai guardato a Roma da un punto di vista politico. Ho sempre amato rappresentare e vivere la mia provincia, il mio paese quando sono stato sindaco, la mia regione, oggi che sono in regione. Lei tra l'altro è anche consigliere comunale di Alba Villa. Sì, siamo rimasti in consiglio comunale. Perché? Perché la soddisfazione è quello che a me piace. Mi piace conoscere la provincia di Come in questi anni una delle cose più belle dell'esperienza politica è che conosci tutto, conosci ogni angolo, dalla Valca Varnia, alla Bassa Comasca, all'Olgiatese, che è un mondo straordinario. Alla Vallassina. Alla Vallassina. Insomma tutto quello del Tango Reale per me è un po' più facile, essendo di Alba Villa già lo conoscevo. In questi anni conoscivo veramente tutto, che vuol dire posti bellissimi, associazioni, realtà straordinarie, persone straordinarie. E questo secondo me è qualcosa che è un regalo. Il mio regalo è figlio di questo. Io non riuscirei mai a fare la politica se non ho contatto con le persone, se non ho la necessità di risolvere qualche problema, che è stancante, che è faticoso, ma come dicevo all'inizio è l'unica vera soddisfazione. Quando una persona o qualcuno ti ringrazia perché lei ha risolto il suo problema, che può essere da un problema banale a un problema serio, penso che sia questo il lavoro. La nostra missione, la missione di ciascuno di noi. E devo dire che se l'approccio all'amministrazione è questo, il ritorno poi da un punto di vista di stima ce l'hai. Ce l'hai senza fare nulla di straordinario. Hai comunque questa possibilità di essere riconosciuto come una persona che se c'è bisogno sa che si deve fare. Non sempre si riesce a aggiungere un risultato, non sempre tutto risolvibile. Però questo è quello che mi dà molta soddisfazione. I giovani. I giovani è un grosso problema perché vediamo che tanti giovani lasciano l'Italia per andare a trovare un lavoro all'estero, ma soprattutto vediamo che la difficoltà dei giovani a impegnarsi in politica. Certo che fatti di cronaca tipo gli attuali, quelli del Qatargate, non aiutano sicuramente, ma come riportare i giovani ad avere passione per la politica? Io ho fatto questa iniziativa col Consiglio regionale in cui ho voluto girare un po' tutte le scuole di tutte le province lombarde e uno degli obiettivi, gli obiettivi erano due, il primo quello di ascoltare i giovani. Oggi io sento dibattiti politici in cui ci sono persone della mia età che pensano ancora di poter interpretare quali siano oggi i sogni e i bisogni dei giovani. Dopo questo tour mi sono reso conto in maniera evidentissima che gli occhi con cui noi guardavamo il mondo e i nostri bisogni, i nostri sogni, le nostre aspettative a 18 anni sono profondamente differenti rispetto a quelle attuali. Con questa consapevolezza si può parlare dei giovani e capire perché oggi i giovani si impegnano probabilmente meno rispetto a noi. Sull'impegno io in tutti questi incontri li ho sempre stimolati, che l'impegno non solo ad una candidatura, non solo ad un impegno amministrativo, ma è un impegno nel mondo associativo, è un impegno alla partecipazione, portando anche dei testimoni a ragazzi come loro che magari fanno parte delle croci di primo soccorso, che magari fanno parte di qualche associazione volontariato, che insegnano calcio ai bambini. Tutto questo per far capire, che è un po' anche la mia esperienza personale, che alla fine tu ricevi molto di più di quello che dai ed è una grande crescita. Io ho raccontato sempre ai ragazzi che ho incontrato, che io ho fatto l'università, ho studiato giurisprudenza, ma ho imparato come scuola di vita molto di più dalla mia esperienza amministrativa che non dalla mia esperienza universitaria, perché ho imparato ad ascoltare, ho imparato a confrontarmi, ho imparato a capire che non sempre le mie idee sono quelle più giuste, ho imparato ad entrare in relazione, ho imparato a parlare in pubblico, impari tantissimo, non solo nell'ambito politico amministrativo, ma basta essere partecipi di una comunità piccola e grande che sia. E lo dico, in un mondo che è sempre più individuale, oggi sempre per colpa degli strumenti tecnologici che ci sono, molti giovani, anche compagnie di giovani, sono drammaticamente individuali e quindi come superare questo? Non puoi vietarli di usare il telefonino, ma puoi fargli capire che alla fine ci sono la possibilità di vivere anche parallelamente delle esperienze differenti che ti fanno strare insieme ad altri giovani e meno giovani e questo è il grande obiettivo che oggi la politica deve avere. Quindi due concetti, la politica non pensi a 45, 50 anni, a 40 anni, a 60 anni di poter ancora interpretare i bisogni dei giovani di oggi, perché sono completamente cambiati e per farlo devi ascoltarli e devi ascoltarli in maniera diretta. Ma questi fatti che succedono anche di corruzione all'interno del mondo politico, tanto che poi si arriva a dire che sono tutti corretti. Questa è la frase da evitare, nel senso che poi io quando sento queste cose mi arrabbio in maniera pazzesca, mi arrabbio in maniera pazzesca perché di fronte a tantissime persone che si occupano da un punto di vista amministrativo delle comunità, che sono persone capaci, disponibili, che fanno un servizio, oneste, non hanno mai rubato una lira, quando leggono queste notizie i primi ad arrabbiarsi sono loro, i primi ad arrabbiare quando leggo queste cose del Qatar, queste cose qui, sono io, io mi arrabbio, mi arrabbio perché poi alla fine si rischia di fare di tutta l'erba un fascio, che è qualcosa di semplicistico, ma è qualcosa di rischioso. I primi ad arrabbiarsi sono gli amministratori e i politici onesti, questa gente alla fine andrebbe rinchiusa e buttata via la chiave come segnale, perché non è così, perché la politica fatta bene è qualcosa di utile ed è qualcosa che serve e che può portare a dei miglioramenti della società. Poi se c'è qualcuno che ruba, come in tutti i campi ci sono i furbi, come in tutti i campi ci sono i disonesti, ma i primi ad arrabbiarsi e i primi ad arrabbiarmi sono io, sul discorso giovanile ovviamente dobbiamo spiegare questo, perché ci sono migliaia di esempi positivi di sindaci, consigli comunali, di gente che si dà da fare per gli altri e non può essere che uno elemento negativo infanghi tutto il lavoro e tutte le immagini di questo, io non li consiglio neanche colleghi, questi sono ovviamente solo delinquenti. Leggiro una domanda che alcuni amici e anche alcuni suoi elettori ci hanno fatto quando abbiamo detto che dovevamo incontrarla, perché è passato da Forza Italia alla Lega? Che cosa ha spinto a questo salto? Due considerazioni, la prima il corteggiamento che ho ricevuto da Matteo Salvini per cercare di dare una mano al partito, che mi ha fatto molto piacere, la Lega è sempre stato un partito molto legato al territorio, molto radicato sul territorio, che è un po', lo dicevamo prima, una delle mie caratteristiche principali, il legame con la gente, il legame con la terra, il legame con quello che la terra rappresenta e quindi la Lega è sempre stato un partito di cui io apprezzavo molto questo concetto. Dall'altra parte c'era un'inevitabile delusione per il declino figlio di tante cose del partito di Forza Italia, che è stato un partito secondo me straordinariamente importante, che ha cambiato la politica in Italia grazie a Silvio Berlusconi, che è riuscito a creare il centro-destra e che poi per mille ragioni non ha mai voluto provare a fare un rinnovamento, provare a dare una continuità a questa storia bellissima che Berlusconi aveva iniziato. Quindi l'immagine di un partito, di un movimento che alla fine, nonostante qualche tentativo, non sia mai riuscito a rinnovarsi comportando inevitabilmente un continuo calo dei consensi, ovviamente mi ha fatto riflettere su questi due aspetti, abbracciando con piacere, con riconoscenza e con tanta voglia di fare come sempre ho fatto il corteggiamento e lusinghe di Matteo Salvini. Cinque anni come Presidente del Consiglio regionale e sono stati cinque anni non facili. Covid, non solo Covid, ma crisi economica, difficoltà anche di tanti enti, dei comuni in primis. Ecco, c'è qualcosa che si rimprovera, che avrebbe potuto fare e non ha fatto? Guardi, ne parlavo Enrico proprio qualche settimana fa in cui stavo pensando alla mia eventuale ricandidatura per la regione, visto che si voterà il 13 e il 14 febbraio. Io devo dire che ho avuto sempre la fortuna di arrivare alla fine di un percorso amministrativo, quando ho fatto sindaco, quando ho fatto consiglio provinciale, lo scorso mandato, quando ho fatto il consigliere sottosegretario della regione, di arrivare al termine dei miei cinque anni mandato con una grande serenità mentale, di aver sempre avuto la sensazione che più di così non potevo fare, da un punto di vista per quelle che sono le mie possibilità, le mie capacità, la mia energia. E quindi personalmente questo mi dà una grande serenità, perché dici, io più di così non potevo fare, qualcun altro sarebbe stato in grado di fare meglio, sicuramente, ma per quelle che sono, ripeto, le mie capacità, lo affronto con una grande serenità mentale. Da un punto di vista generale, invece questi cinque anni sono stati cinque anni complicati dalla pandemia e sono stati cinque anni molto difficili per alcuni comparti, iniziare ovviamente l'accordo della sanità che oggi paga ancora le ferite della pandemia. Ma come facevate a fare le riunioni del Consiglio e a prendere anche delle decisioni importanti in quel periodo del Covid, quando non si poteva essere presenti, ma si doveva fare tutto online? Io sono riuscito, come dire, a inventarmi delle situazioni, location, l'auditorio in un certo periodo, che consentisse di rispettare la normativa e di continuare a svolgere il Consiglio regionale in presenza. Dopodiché ho adibito l'Aula Consigliare con dei Plexiglas, che ancora oggi sono presenti per continuare a lavorare, perché c'era un momento in cui era anche necessario dire che comunque le istituzioni devono dare un segnale che il mondo deve andare avanti, hanno necessità di prendere i provvedimenti. Perché tutta la Lombardia dipendeva da lì, dipendeva appunto dal palazzo della regione. E quelli sono stati anche mesi in cui sono state approvate anche delle leggi importanti, insomma pensiamo alla legge che abbiamo fatto, la legge 9, quella per la ripartenza economica dopo la pandemia, che è riuscita a finanziare tantissime opere, anche sul territorio della provincia di Como, anche sul nostro triangolo orariano, sono figlie proprio di quel momento, quella legge venne approvata in un momento in cui eravamo ancora in piena crisi pandemica e pensavamo a come far ripartire l'economia dopo sei mesi di stallo e di chiusure. E quindi sono contento che siamo riusciti ad andare avanti, a proseguire il lavoro amministrativo con dei provvedimenti importanti che oggi troviamo e iniziano a partire i cantieri. Però diciamo che sono stati 5 anni segnati dalla pandemia. Oggi la grande necessità è quella di recuperare quel collegamento molto forte tra la medicina territoriale e il cittadino. Se oggi dovessi dire qual è la principale necessità su cui investire per quanto riguarda gli ambiti regionali è ovviamente il tema della medicina territoriale, di cui purtroppo non abbiamo una competenza esclusiva, nel senso che la programmazione dei medici, la programmazione dei nuovi infermieri, la programmazione dei nuovi medici di base è competenza dello Stato che ha, e metto dentro tutti, negli ultimi 15 anni evidentemente sbagliato i conti, perché il numero dei medici che sono andati in pensione rispetto ai nuovi medici è ovviamente un numero che non è stato compensato. E quindi bisogna correre, bisogna correre innanzitutto allargando le maglie della facoltà di medicina. Io ho fatto giurisprudenza e tutto serve oggi tranne che i grandi avvocati e non c'è il numero chiuso. Pensare che ci sia il numero chiuso su una facoltà come medicina in cui oggi la principale difficoltà è quella di trovare medici che possano dare risposta alle esigenze dei pronti soccorsi, alle esigenze della medicina territoriale è un controsenso. Correre ai pari vuol dire correre, perché per formare un medico ci vogliono 7-10 anni, però se mai parti mai arrivi. E questo credo che sia oggi una delle principali, perché la Lombardia rimane comunque una regione eccellente da un punto di vista sanitario su tutto quello che sono una serie di prestazioni cliniche importanti. Vengono qui da tutta Italia, vengono anche da Europa per farci operare su alcune situazioni critiche. Oggi dobbiamo recuperare invece la quotidianità, la gestione della necessità del cittadino da codice bianco, non dico da codice rosso, ma da codice bianco, perché alla fine oggi non può essere il pronto soccorso, il primo accesso che ha il cittadino nel momento in cui ha bisogno. Un pronto soccorso che ha peraltro mille difficoltà di gestione rispetto al tema del personale che manca, gli infermieri che mancano. Questo penso che sia oggi. Stiamo costruendo ovviamente un percorso di creare strutture parallele ai pronti soccorsi che possano dare risposta rispetto a questa esigenza, ma se dovessi oggi fotografare qual è la principale richiesta che farebbe un cittadino oggi è quella di migliorare quella parte di sanità. Una parte piccola è di competenza nostra, una parte grossa che è la programmazione rispetto al numero di medici e competenze dello Stato. Oggi c'è un nuovo governo, penso che abbia le idee molto chiare su questo aspetto, ma ci sarà necessità di aumentare il più possibile il numero da un punto di vista di comparto di medici, sia quelli territoriali, medici di base, sia quelli ospedalieri, soprattutto sulla parte del primo soccorso, sulla parte dell'emergenza urgenza, sulla parte dell'anestesia che sono oggi introvabili. Fai fatica a trovarli in realtà come Milano, tu immagina quanto sia complicato trovarli in realtà più dislocati tipo la Valtellina, tipo l'Alto Varesotto, tipo il nostro Alto Lago. Sì, anche qui a Cuma, ma dietro l'angolo della sua vita politica cosa c'è ancora? Ma chi lo sa, io vivo tutto con grande serenità, di fatto io sono un fatalista e quindi oggi ci saranno tra un mese, un mese poco più, insomma, le elezioni regionali, io mi ripresenterò, ma lo vivo con grande serenità, perché credo sempre che, anche se dovesse chiudersi a febbraio la mia esperienza politica, penso di avere, come dire, dato un servizio, di averlo dato e di aver ricevuto tantissimo da questa esperienza. Spero di, come dire, aver dato anche qualche risposta positiva, qualche ricordo positivo, ma non lo vivrei come un dramma. Immaginerei una seconda parte della vita, chissà, con anche la curiosità di capire, insomma, quanto possa essere differente, come dire, ecco, dopodiché farò di tutto per essere rieletto, ma ho sempre avuto questa grande fortuna mentale di vivere anche quello che può sembrare, come dire, un dato negativo, leggerlo con la curiosità di dire, però vediamo adesso, insomma, se poi è così negativo, se invece chissà cosa si apre, chissà cosa si apre, per cui questo mi aiuta molto, mi aiuta molto e mi fa affrontare tutto con molta serenità, perché non sempre le cose negative sono solo negative e quindi, ovviamente, spero di andare avanti, di fare un'altra esperienza in regione, di avere un ruolo in regione, insomma, vedremo quello che succederà, ma con molta serenità, insomma, nel senso che se dovessi succedere che non dovessi essere rieletto, avrò la curiosità di vedere la mia vita senza un pezzo importante che l'ha positivamente, ma anche in maniera molto impegnativa, condizionata per tanti anni. Abbiamo fatto l'intervista con un ospite senza chiedergli il nome. Pallino, come si chiama? Pallino, Pallino, me l'hanno portato durante, viene da Barney lui, me l'hanno portato durante il Covid e ci siamo tenuti, certo che tra tutte, io ho sempre avuto cani, ma tra tutte le razze devo dire che Jack Russell è infinito, cioè è infinito in termini di energia, vuole sempre giocare, andare in giro, non è un cane che dove lo metti sta, è un cane che ha sempre bisogno di andare in giro. Io credo che quando lei torna a casa, trova la sua famiglia, ma trova anche questo momento di svago. Poi è legato a me, quindi mi sta sempre addosso. Bene, grazie a voi, grazie a voi, questa bella chiacchierata. Una chiacchierata, sì, abbiamo voluto mantenerla più che a livello politico, anche, ma non solo, perché credo che tante volte noi conosciamo i politici soltanto a livello istituzionale e non nella loro vita comune e quando si conoscono direttamente si hanno tante belle sorprese. Grazie. Mi ha fatto molto piacere, grazie a voi.